Le ipotesi di fantapolitica non appassionano Edmondo Cirilli. A Salerno per sostenere la candidatura alla presidenza della provincia di Giovanni Romano, l'ex presidente dell'ente di Palazzo Sant'Agostino ha detto di non credere a promozioni a Roma di Caldoro come sfidante di Renzi, con il sindaco De Luca nuovo governatore Campano. Fratelli d'Italia in sostanza ha confermato l'appoggio a Caldoro come presidente, sebbene riconoscendogli già un ruolo nazionale. Il presidente Caldoro è divenuto ormai un leader perché è uno di quelli che non soltanto ha governato meglio e gode del maggior consenso da parte dell'opinione pubblica ma il suo valore si dimostra perché una cosa è governare la Lombardia e il Veneto che sono le regioni ricche, altra cosa è governare una regione in grande difficoltà economica non soltanto per i debiti lasciati da Bassolino ma anche per un sistema complessivo di vera e propria emergenza sociale se pensiamo al lavoro. Ciò nonostante Caldoro è riuscito nel risanamento, è riuscito a rimettere in moto la Campania ed è chiaro che venga indicato come un leader del centrodestra ma per ora ce lo teniamo in Campania. Non Caldoro a Roma e De Luca a Napoli? Penso che De Luca non ci arriverebbe anche se non fosse candidato Caldoro innanzitutto perché il PD purtroppo per noi non lo candiderà. Io ho già detto che noi come centrodestra facciamo il tifo per lui perché lui è il miglior candidato per Caldoro cioè per far vincere Caldoro.